Buonasera a tutti, seduta interlocutoria sui principali listini europei, eccessione fatta per il nostro Fuzzimib, non parlo ovviamente del mercato cash perché oggi ci sono stati dividendi di Banca Mediolanum, Eni, Intesa, Mediobanca, Poste Italiane, Ricordati, Tenare Sterna, per cui a livello di indice non c'è stato. Un segnale così significativo, al contrario a livello di futures sicuramente c'è stata una accelerazione rialzista piuttosto interessante, decisamente meglio i mercati azionari americani, ma vedremo ovviamente tutto nel dettaglio, devo però iniziare da Montepaschi. Oggi tra i commenti ho letto dei complimenti nei miei confronti perché erano partiti due titoli che avevo analizzato nel weekend, Expert AI e Antares. Tra l'altro io questa mattina in apertura ho incrementato la mia posizione su Antares. Ma permettetemi un piccolissimo momento di autocelebrazione perché pur non avendo ovviamente notizie riservate o privilegiate e vi condivido subito lo schermo, avevo detto chiaramente che Montepaschi in quest'area di massimi stava a mio avviso preparando una distribuzione. Poi è stato probabilmente un caso, è stata fortuna, ma adesso in After Hour è sospesa a ribasso con una variazione negativa del meno 4,98%, ha già scambiato 1.661.000 pezzi e ci sono 39.000 pezzi al meglio in lettera. Cosa è accaduto? Io vi prendo il sole perché ho trovato la notizia prima qui che da altre parti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini Accelerated Book Building, il famoso ABB, A maiuscola, B maiuscola, B maiuscola, è l'acronimo di Accelerated Book Building. Per l'accessione di 251.937.942 azioni ordinarie di banca Montepaschi di Siena, corrispondenti a circa il 20% del capitale sociale della banca. L'operazione spiega il MEF in una nota, effettuato attraverso un consorzio di banche costituito da Bofa Securities Europe SA, Jeffress GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Book Runner, con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Nell'ambito dell'operazione è previsto che il MEF si impegni con i Joint Global Coordinator e i Joint Book Runner a non vendere sul mercato ulteriori azioni della banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso, dei stessi Joint Global Coordinator e Joint Book Runner e salvo esenzioni come la prassi di mercato. I termini finali dell'operazione saranno comunicati dal termine del collocamento. Non mi risulta sia stato ancora fissato il prezzo, normalmente viene comunicato dopo, però aspettiamoci che possa essere anche eventualmente inferiore a 2,90 perché vi avevo già detto in tempi non sospetti che mi sembrava veramente incredibile dove era arrivata Monte Paschi, perché avendo fatto l'ultimo momento di capitale a 2 euro era altamente improbabile che il Tesoro riuscisse a vendere sopra 3 euro e vedremo cosa riuscirà a spuntare perché comunque sarà sicuramente un incasso importante, perché abbiamo visto più di 250 milioni di azioni per cui comunque è sicuramente già qualcosa di interessante in che sarà magari circa 700 milioni, poi comunque lo vedremo nel dettaglio, per cui abbiate pazienza se ho sconfinato, però quando qualcuno di voi concorda con me che questo canale non ha il successo meritato perché non credo che molti altri abbiano visto questa distribuzione e abbiano avvertito gli investitori di questo rischio. Partiamo dagli indici americani perché stanno sicuramente andando meglio di quanto abbiamo visto in Europa. Dow Jones nuovo massimo di periodo a 35.129, prossimi obiettivi 35.219, 35.335, 35.354, poi il massimo del 10 agosto 35.578. L'ho già ribadito in tutte le lingue del mondo anche se parlo solo italiano, un po' latino, un po' di dialetto ligure e sono francofono diciamo che in francese mi difendo abbastanza e mi riferisco al discorso dell'ipercomprato. Siamo arrivati a 91 di stocastico, 78 di RSI. Cosa significa questo? Che il Dow Jones può continuare a salire sì, però può anche iniziare una fase di consolidamento con primo obiettivo 34.818, poi 34.581, eventualmente chiusura di dialetto aperto sul massimo del 13 di novembre 34.405. Io lo voglio dire chiaramente propendo più per una prosecuzione a rialzo, però sappiate che quando il mercato è così tirato, anche solo per scaricare indicatori e oscillatori, una correzione può sicuramente esserci. Quindi veniamo adesso allo standard Empur 500, anche qui il segnale è molto positivo, centrato il primo obiettivo rappresentato dal massimo del primo di settembre 4.541, poi abbiamo questo 4.550, quindi la chiusura del gap è stato aperto a 4.567 sul minimo del primo di agosto. Il massimo di oggi è stato 4.543, quindi addirittura è stato superato il massimo del primo di settembre. Vale quanto vi ho detto ovviamente poco fa per il Dow Jones, se visto 90 di stocastico e 85 RSI dovesse iniziare un consolidamento, 4.487, poi 4.458, quindi chiusura del gap è stato aperto sul massimo del 13 di novembre 4.421. Passiamo adesso al Nasdaq Composite, anche qui vedete bella rottura a rialzo, primo obiettivo diventa 14.309, poi 14.370, massimo del 19 luglio 14.446. Anche qui siamo in forte ipercomprato, per cui attenzione soprattutto al minimo del 14 di novembre 14.003, perché se dovesse il Nasdaq Composite perdere questo livello ci sarebbe come obiettivo la chiusura del gap è stato aperto sul massimo del 13 di novembre 13.805. Nasdaq 100, qui siamo veramente a livelli che sfidano l'iperuraneo platonico, 15.932 era il massimo da superare quello del 19 di luglio, oggi ha già fatto 16.014, quindi in una sola volta, mettiamo magari un settimanale, ha superato livelli veramente importanti e adesso era 16.017, ecco questo massimo settimanale della seconda di gennaio, poi c'è addirittura 16.513. e parliamo della prima di gennaio del 2022, ovviamente anche il Nasdaq 100 a maggior ragione è in forte ipercomprato, 90 di stocastico, 85 di RSI, mi devo ripetere ma pur essendo convinto che ci sia ancora spazio per salire ulteriormente, sotto il minimo del 14 di novembre 15.726, chiusura del gap è stato aperto sul massimo del 13 di novembre 15.524. adesso andiamo invece sugli indici europei e vedete che il DAX comunque oggi fa una seduta appunto interlocutoria con addirittura una candela inside, nulla è ancora compromesso, può dopo un massimo di periodo toccato venerdì a 15.952 raggiungere 16.042 che è il massimo del 31 di agosto, poi c'è 16.060 massimo del 10 di agosto. Anche qui abbiamo un indice in forte ipercomprato, il livello più importante per il breve è la chiusura del micro gap lasciato aperto a 15.759 sul massimo del 15 di novembre, sotto questo livello avremo un ritesto della media mobile a 200, 15.654, la media mobile a 100, 15.608. Caccarant è in una situazione di quasi come quando un giocatore di calcio sta per segnare, convinto che segnerà e il portiere fa una super parata, il difensore toglie dalla linea perché oggi stava effettivamente il Caccarant provando a rompere il rialzo perché aveva superato in maniera molto netta la media mobile a 200, 7.243 andando a fare un massimo a 7.267, è vero che la rottura definitiva era sopra 7.270 con primo obiettivo in micro gap da chiudere sul minimo del 20 di settembre 7.272 e poi sul massimo del 20 di settembre 7.351 però chiude con una shooting star quasi gravestone doge, quindi dobbiamo considerare anche l'ipotesi nonostante anche per il Caccarant abbia più un'idea di ulteriore rialzo, dicevo un 7.196-7.168 Eurostox 50, anche qui controlliamo per poco, non era candela inside, comincia a essere leggermente tirato è su questa resistenza piuttosto importante perché vedete massimo 14 agosto 4.343, massimo 30 di agosto 4.340 massimo di venerdì 4.347, oggi 4.348 c'è ancora possibilità per un ulteriore spunto rialzista con 4.381-4.402 come obiettivi qui dobbiamo prestare attenzione al minimo delle ultime tre sedute, ovvero 4.294 con un primo obiettivo sulla media mobile a 200-4.267, media mobile a 100-4.243 Eurostox banks, shooting star anche qui quasi gravestone doge, dopo un massimo di periodo a 115.66 mettiamo un settimanale per vedere che l'obiettivo rimane comunque 119.73 anche se siamo comunque in una situazione tecnica con una gravestone doge sporca sui massimi di periodo che può comunque rappresentare una mini correzione magari fino a 103.82, 113.82, 113.68 poi 113.2 minimo del 15 di novembre Veniamo al Futsiming Futures, vedete che bella rottura dei massimi della congestione di breve periodo rimane il 29.910 di cui vi ho già detto, poi è vero che c'è ancora spazio ma siamo 88 di stocastico, 78 di RSI quindi andiamo step by step e soprattutto comprare a questi prezzi rappresenta un rischio sicuramente abbastanza significativo diamo uno sguardo anche, che non abbiamo fatto prima, a Russell che comunque si difende piuttosto bene sembra voler tornare sulla media mobile a 200, 1824 poi c'è la media mobile a 100, 1831 il massimo del 15 di novembre è 1830 Mid cap più o meno stessa situazione con una media mobile a 200 ormai nuovamente vicinissima, 42.111 poi il massimo del 15 di novembre è 42.269 Futsistar, qui invece il livello più importante per breve è 44.203 poi 44.712 45.283 veniamo adesso ai titoli che si sono comportati meglio a livello di Futsi Mib non c'è nessun titolo che ha staccato particolarmente e nessun titolo che ha dalla parte opposta fatto particolarmente male partiamo da Saipem Saipem sicuramente oggi ha raggiunto un primo obiettivo perché ha fatto 1,5065 andando a chiudere a 1,493 quindi il primo target di 1,505 è stato praticamente anche superato in intraday prossimi obiettivi 1,51,9 1,55,2 poi direi 1,58,7 1,61,4 non vedo al momento grossi pericoli di correzione perché oggi chiude anche bene sopra la media mobile a 50 1,47,3 lascia questo micro gap aperto sul massimo di ieri 1,46,3 Amplifon tentativo di rottura della importante resistenza statica poco sotto 28,50 prossimi obiettivi 28,62 poi media mobile a 100 29,10 quindi massimo del 25 di settembre 29,51 Moncler qui siamo ancora all'interno di un trading range il trading range che dobbiamo adesso valutare per giudicare il titolo non direi che debba prevedere i minimi di periodo di 47,71 ma 48,97 53,02 sapete già come la penso quando ci sono trading range così prolungati io sono tendenzialmente compratore nella parte bassa del range e venditore nella parte alta del range anche Stellantis è ancora per poco se continua così in un trading range e è arrivata quasi sul massimo di breve periodo toccato giovedì a 18,938 oggi ha fatto 18,894 in chiusura di giornata 19,176 19,198 i prossimi obiettivi poi andiamo a vedere mettiamo un settimanale direi che rimane il massimo storico di 19,35 anzi no scusate perdonatemi aveva fatto a 20 20 20,2 comunque anche qui andiamo per step diciamo che 19,35 è già un target piuttosto significativo poi si può mettiamo a questo punto un mensile 20 e 20 20,14 e mezzo ecco però mi raccomando chi fosse in posizione alzi il livello di stop profit ogni volta Inuit sembra abbia tutta la voglia di rompere al rialzo con un primo obiettivo a 11,13 media mobile a 100 11,18 quindi 11,32 e mezzo 11,40 la media mobile a 200 è 11,42 e 3 Leonardo sempre forte sembra quasi che voglia andare a rompere al rialzo 15,01 il breakout il target ve l'ho già detto in più occasioni è 15,98 16,11 direi non oltre al momento ben comprata forse la banca che ha fatto meglio oggi direi assolutamente di sì Biper anche se adesso comanda questo trading range tra 3,65,9 e 3,46 e 1 poi su un recupero del petrolio sta provando a fare base in area 15,50 Tenaris direi che al momento 15,45 16,43 e mezzo è un trading range molto interessante entro il quale muoversi Eni sempre sulla stessa falsa riga abbiamo un trading range in questo caso 14,72 15,30 32,8 poi facciamo ancora Prismian che sembra voler rompere a rialzo con al superamento però della media mobile a 236,56 primo obiettivo 36,78 poi 37,34 quindi direi 37,50 37,53 al limite 37,80 poi ci sono tanti altri titoli che si sono comportati abbastanza bene per esempio azimuth non è una variazione clamorosa più 1,50 però rottura dei massimi di periodo e direi che adesso punta a tornare a 22,85 sui massimi di marzo e poi a 23,84 sui massimi di febbraio anche qui però mi raccomando tenete sempre conto che siamo a 86 di stocastico 71 di rsi quindi significa che può effettivamente salire ancora azimuth ma probabilmente se lo farà diventerà un titolo in forte ipercomprato poi voglio guardare ancora un attimo interpump perché dopo quell'operazione straordinaria volta a evitare un obbligo di OPA comunque sta tenendo direi che un nuovo per l'ingrenge è 4207 e 45 poi concludo i migliori con Enel perché oggi ennesimo massimo di periodo mettiamo addirittura un mensile perché probabilmente si vede meglio e direi che si può pensare a 6,662 6,888 come target successivi massimi di marzo e di febbraio del 2022 diamo uno sguardo indicatori oscillatori non siamo ancora in ipercomprato come RSI però siamo a 92 stocastico per cui vale il discorso che vi avevo già fatto tra i peggiori in realtà sono pochissimi titoli da guardare e guardare più che altro generali perché sta un po' soffrendo e se dovesse perdere 19,085 si porterebbe subito sulla media mobile a 100 18,97 poi 18,90 quindi 18,77 18,65 e mezzo considerato che a 18,69 ha la media mobile a 200 adesso andiamo fuori dal Fuzzimib perché ci sono molte situazioni veramente interessanti allora partiamo da Energy combinazione ne avevo parlato anche nel video di repiego settimanale sui titoli fuori dal Fuzzimib perché avevo visto qualcosa di interessante soprattutto a partire da venerdì il primo target è stato già centrato manca la chiusura del gap è stato aperto sul minimo del 27 settembre 1,76 ma ritengo che possa andare fino a 1,95 e mezzo 1,99 eventualmente 2,07 cosa è successo su Energy è passato un po' in sordina quel contributo per il PNRR per una gigafactory da poco più di 7 milioni di euro è uscito quel comunicato stampa venerdì proprio in cui la società dichiarava che siccome il titolo è decisamente sottovalutato il management stava comprando sul mercato e oggi gli è andato dietro quasi facendo il numero a scoppio ritardato channel device io a parte il fatto che fossero ospiti dal mio amico Emery Degnarda altre notizie non ne ho viste oggi segnale molto importante supera media mobile a 50 0,29 4 media mobile a 200 0,32 chiude sui massimi giornate a 0,32 9 a questo punto credo che fino a 0,34 e mezzo 0,35 7 possa arrivare anche nelle prossime sedute Portobello continuo a spiegarmela veramente poco ennesimo rally con titolo che ormai è vicinissimo all'importantissimo target di 10,70 oggi ha fatto un massimo a 10,15 prossimi obiettivi 11,65 12 poi chiusura del gap lasciato aperto 12,45 questo recita l'analisi tecnica attenzione però perché c'è sempre un problema legato alla situazione patrimoniale perché deve essere fatto un aumento di capitale da 10 milioni di euro poi Innovatec anche su Innovatec ero stato buon profeta fortunatamente ci sono i video che lo possono testimoniare poi magari ogni tanto andatevi a rivedere perché se mi date dei feedback fino adesso ho avuto dei feedback piuttosto positivi sulle mie previsioni che carico quotidianamente sul canale youtube poi qualcuno può anche invece avere dei dei dati diversi però devo dire che questo mi soddisfa particolarmente perché vuol dire che il lavoro che sto cercando di fare è abbastanza accurato massimo del 2 di ottobre 1,31 6 media mobile a 201 342 poi massimo del 19 settembre 1,38 e 6 ma faccio bellini perché ci andavamo occupati però scambia sempre poco oggi peraltro ha rimbalzato e credo che possa continuare a farlo anche nelle prossime sedute con target 1,40 1,44 poi 1,49 ecco Antares come vi ho detto io ho incrementato questa mattina a 2,60 in apertura la mia posizione adesso ho 2.000 pezzi quindi non tantissimi come vi ho detto non c'erano i segnali per un chiaro rimbalzo però la mia idea è stata questa mi do uno stop sotto 2,45 se rimbalza il titolo può arrivare fino a 3,13 e mezzo 3,14 quindi ce n'è di spazio ancora per un eventuale rimbalzo oltretutto credo l'ho fatto velocemente questa mattina all'alba perché non di arrivo in ufficio alle 6 siamo attorno a 4 volte le bidà per cui non è una cosa clamorosa vi ho parlato anche di Tecba oggi però ha un po' valigiato ma ci sta perché se vi ricordate io ne ho parlato il primo giorno qua e vi ho detto un titolo come Tecma me lo ricordo come adesso potrebbe arrivare anche a 2,80 2,90 ha fatto 3,04 poi ha chiuso a 2,78 ovviamente adesso diventa un po' più pericolosa la situazione perché oggi chiude proprio vicinissima la media mobile a 50 in realtà sotto media mobile a 52,805 chiuso a 2,78 c'è il gap da chiudere a 2,62 che potrebbe chiudere anche nelle prossime sedute Casta Diva Trading Range veramente molto chiaro 1,18 1,35 il gap lasciato aperto a 1,15 e mezzo però sembra voglia invece rompere il rialzo Casta Diva quindi tornare proprio 1,35 poi 1,39 1,42 poi credo io sono ancora impegnato nei dettagli perché il negozio della mia compagna ha aperto ma ci sono sempre tante piccole situazioni a sistemare per cui in questo periodo mi guen studio ma meno rispetto a quanto faccio abitualmente mi pare mi è stato detto che seco ci doveva essere un articolo su Milano Finanza nel weekend comunque io non l'ho letto l'articolo voglio essere come al solito estremamente onesto con voi però sicuramente è stato apprezzato perché più 5,34 con volumi anche in aumento siamo pronti per rivedere il titolo a 3,48 2,3 50,5 6 eventualmente media mobile a 50 3,64 e 4 poi c'è un po' di patisserie come a Modirio sul Warrant Saccheria Fratelli Franceschetti e oggi hanno comprato un pochettino anche il titolo che può rimbalzare fino a 0,89 e 4 direi poi Redelfi in scia all'annuncio del nuovo piano industriale ennesimo nuovo massimo storico Gap lasciato aperto sul massimo di venerdì a 4,46 ovviamente io adesso ammiro il titolo al limite tornerò a considerarlo da 3,95 3,91 se non ci arriva ripeto lo ammiro a Modirio il famoso bravi d'oro per chi mi conosce Banco di Desio sto lavorando molto il titolo l'ho fatto anche oggi oggi l'ho fatto short ho limato un po' troppo per poterlo fare per riuscire a farlo anche short long perché poi aveva corretto fino mi pare a 3,74 e ha rispazzato su bellissimo breakout questa volta confermato di 3,66 massimo in 3,88 dove ho shortato io volumi anche molto interessanti dobbiamo mettere un mensile per vedere un obiettivo direi 4,12 4,16 sto sempre cercando titoli che abbiano scambiato un minimo Neo Experience direi qua siamo pronti per una rottura rialzo con ecco questa mi serviva la statica primo obiettivo ovviamente deve prima superare media mobile a 100 1,82 poi 1,84 e mezzo target successivi 1,89 poi direi media mobile a 200 1,91 e 4 massimo del 20 di settembre 1,96 Shuker direi anche qui siamo pronti per un breakout rialzista sopra 3,75 primo obiettivo media mobile a 50 3,94 poi il massimo del 4 di ottobre 4,13 expert i poi ha fatto shooting star comunque volumi in aumento massimo in 3,079 4 chiusura 0,74 ma ritengo 0,805 0,81 4 poi 0,85 8 quindi incrocio media mobili a 50 0,87 a 200 0,88 labo oggi viene respinta dalla media mobile a 100 1,85 5 obiettivi per le prossime sedute la media mobile a 200 1,88 7 poi 1 e 94 che è massimo sia del 13 di ottobre che del 19 di ottobre molto bene Altea gli ho un po' regalato i miei warrant perché non c'era negli ultimi giorni un compratore convinto nonostante il titolo mi desse l'impressione di voler provare a rompere al rialzo credo lo possa fare con un primo obiettivo 5,30 poi 5,52 5,62 5,72 vi ricordo che sono i recenti massimi storici toccati il 12 di ottobre poi edilizia acrobatica qui siamo in un ampio trading range direi che superato la media mobile a 50 13,78 i prossimi obiettivi sono 14 14,25 quindi 14,50 massimo del 13 di ottobre bene anche TXT che è un titolo che in realtà sta un po' soffrendo sembra voglia fare una base in area 15 per cui il rimbalzo si può concretizzare con un primo obiettivo media mobile a 50 15,92 poi 16,46 quindi massimo del 9 di novembre 16,78 poi è veramente incredibile De Longhi De Longhi è fortissima di periodo oggi praticamente un cino di rosso veramente molto chiaro rompe 27,34 massimo entrare 27,80 chiusura 27,76 quindi anche molto vicino ai massimi di giornata prossimi obiettivi 28,72 poi 30,44 attenzione 28,72 direi ci può stare 30,44 sarebbe un po' troppo forte di per comprato un altro titolo che ho comprato questa mattina è Seri perché mi sembra sia un accumulo da paura primo obiettivo 2,94 poi 3,08 3,18 quindi 3,37 e mezzo 3,44 quindi su Seri sono piuttosto fiducioso poi altro titolo che ho in portafoglio Sesa oggi dà un primo segnale veramente interessante perché chiude in realtà un TIC sotto la resistenza però mi dà proprio l'idea che voglia andare a 108,5 poi sulla media mobile a 200 che è 109,4 quindi vedo Sesa piuttosto bene eventualmente potrebbe anche andare a 114,1 poi vediamo ancora IMSI anche se adesso sta facendo un po' fatica perché sono già due sedute che è respinta dalla media mobile a 200 0,50 e 75 qui credo che ci possa essere un tentativo di distribuzione con primo target 0,49 25 poi 0,49 quindi 0,477 in realtà una mini correzione prevedo un po' di divergenza ribassista su RSI poi siccome la facciamo spesso direi che potremmo occuparci ancora di Saras che ormai sembra voler andare a rompere l'1 47,5 oggi fa massimo 1,476 chiude 1,459 lasciando un gap aperto a 1,432 primo obiettivo direi 1,496 poi 1,52 e 9 massimo del 21 di marzo potrebbe anche arrivare a 1,55 al momento direi però non oltre non posso come al solito fare proprio tutto il listino però direi che è importante fare doveglio perché è un titolo ancora vicinissimo ai minimi storici e sembra finalmente voler preparare un rimbalzo nulla più con primo obiettivo 3,495 poi media mobile a 53,56 massimo del 9 di novembre 3,64 e mezzo concludo con OVS che è un altro titolo che ho nel mio portafoglio medio lungo periodo perché anche qui sono abbastanza fiducioso che possa finalmente rompere al rialzo con primo obiettivo che potrebbe centrare anche domani se per questo media mobile a 50 1,83,6 poi 1,86,2 1,88,2 1,94 e 1 direi 1,99 poi ogni giorno cercheremo di fare anche altri titoli perché non posso neanche dare spazio agli ether che dicono che i miei video sono troppo lunghi ma perché dico cose interessanti sto scherzando non mi va nemmeno di monopolizzare la vostra attenzione perché sono tanti i temi di cui parlare Elty Italia oggi sembrava voler partire al rialzo perché ha fatto un massimo 1,46 poi ha chiuso su minimi giornata 1,33,5 se tiene 1,30 è titolo da trading range tra 1,30 e 1,46 Mutu Online io non ho letto nulla quando vi dico non ho letto nulla perché come vi dicevo non riesco a essere così puntuale come sempre sto anche sistemando un po' la location dell'ufficio per cui per iniziare a ricevere nuovamente persone su appuntamento perché è un ufficio di per sé chiuso al pubblico chi volesse venirmi a trovare lo può anche fare prenotandosi con un po' di anticipo perché io ho molto da fare però lo sto proprio un po' risistemando perché qui è dove c'è la mia postazione e poi ho proprio dall'altra parte un altro piccolo ufficio che sarebbe appunto preposto a ricevere le persone che lo desiderano oggi Mutu Online vi dicevo magari è uscito qualcosa io non ho letto però il segnale è piuttosto brutto perché chiude addirittura sotto la media mobile a 200 27.87 chiude a 27.75 con prossimi obiettivi 27.4 27.3 poi 27.1 quindi 26.5 con eventuale test della media mobile a 50 26.3 cosa intendo dire che se fossi stato dentro sul titolo e avessi preso rally da area 24 oggi sicuramente io avrei applicato uno stop profit poi devo parlarvi di Datrix perché veniva da rally di breve per quella commessa a 10 milioni vedete il brutto di questo mercato sì già venerdì non ha dato un segnale confortante perché dopo un massimo a 2.40 ha chiuso a 2.18 oggi ha chiuso addirittura a 2.08 e per domani potrebbe andare a testare a chiudere scusate il gap a 2.02 poi eventualmente potete stare a media mobile a 50 1.90 un altro titolo che sta soffrendo particolarmente di periodo web salute vediamo a livello di analisi tecnica siamo sì sulla ricerca di minimi veramente molto molto profondi sotto area 1 e poi minimi storici parliamo di 0 87 6 terza settimana di marzo del 2020 poi dobbiamo occuparci ancora di Eurotech perché io non sono molto convinto del movimento di rimbalzo che ha fatto dai minimi di periodo mi riferisco da 1 86 2 minimo 27 di ottobre fino a 2 33 mezzo perché alla fine ha pur sempre perso soldi e adesso dopo essere stata respinta alla media mobile a 50 potrebbe magari andarsi a cercare 209 207 202 ecco perché effettivamente il rimbalzo era stato leggermente sproporzionato oggi prima seduta di correzione per quanto riguarda Salcev era arrivata più o meno a target area 25 magari adesso una mini correzione 23 35 23 15 eventualmente 22 85 considerato che poco sopra 23 alla media mobile a 100 possiamo anche aspettarcela vediamo anche i reti che dopo il rally di metà ottobre subito dopo la prima metà di ottobre partito nella prima metà di ottobre sembra voler andare sulle medie mobili a 50 1,858 medie mobile a 200 1,82 e mezzo medie mobile a 100 1,78 e mezzo poi c'è anche 1,74 1,71 vediamo se trovo ancora qualcosa di interessante meglio questo è una correzione dopo il super rally di venerdì post dati aveva fatto un massimo interday a 0,556 poi ha chiuso a 0,508 attenzione la perdita della media mobile a 100 0,497 perché è il livello sotto il quale io applicherei uno stop profit poi vedo anche Algovat continuare a far fatica è ritornato sui minimi è ritornato sui minimi ho letto velocemente una notizia che c'è stato qualche problema per una richiesta che va fatta al tribunale però sono sincero come vi ho detto non sono riuscito a approfondire come normalmente farei se potessi dedicarmi solo alla mia attività di trader e divulgatore finanziario denora ma allora la seduta di oggi non è sicuramente entusiasmante però poi tutto sommato il livello lo tiene potrebbe tornare sui massimi di periodo 15,63 poi eventualmente 16,32 poi 16,72 attenzione che però sotto il minimo di oggi 14,61 si va subito a 14,02 poi a 13,56 Comer nonostante non so se sia già partito è stato varato il buyback da 10 milioni di euro oggi seduta di mini correzione chiusura sulla media mobile a 50 27,90 sotto 27,70 pericolo di ritorno a 26,40 26,10 io apprezzo molto questa società per cui la considererei comunque una correzione temporanea perché potrebbe tornare sulla media mobile a 129,84 e poi sul massimo del 2 di ottobre che è 30,4 poi oggi ha corretto nuovamente Arterra che aveva fatto di recente minimi storici a 1,48 giovedì ecco qui se di dovesse tenere un rimbalzo fino a 1,64 potrebbe essere assolutamente plausibile poi nuve che aveva rimbalzato piuttosto bene adesso sta facendo un po' più fatica ecco chi avesse preso il rimbalzo sappia che 20,2 è il livello di stop profit adeguato 18,32 è un livello di potenziale reingresso altrettanto adeguato poi oggi hanno venduto un po' di BF però qui il titolo ha fatto Megarelli siamo anche ancora sotto aumento di capitale lasciato un micro gap aperto a 3,88 primo obiettivo 3,75 poi media mobile a 200 3,68 e 7 poi voglio concludere con una serie di titoli dei quali capita di di occuparci abbastanza spesso ovvero i limiti perché dopo il rally di breve periodo sembra pronta una fase di correzione sembra pronta a una fase di correzione con primo obiettivo 5,40 5,34 poi media mobile a 50 5,22 poi ancora digital value che però viene da rally veramente molto importante di breve periodo non è ancora detto che inizi una correzione però direi che 55,3 potrebbe essere eventualmente media mobile a 156,75 l'ultimo obiettivo a rialzo prima di una correzione che deve vedere il titolo a 51,4 51,3 e poi a 49 continuiamo con emac che adesso sembra fare un po' più fatica ed è comunque in un trading range piuttosto definito tra 0,91,7 e 0,99 9 e concludo con cementir che sembra voler iniziare a distribuire sotto 8,43 primo obiettivo 8,34 è proprio ravvicinato poi si potrebbe andare anche fino a 8,11 eventualmente sullo spike del 6 di novembre 7,94 considerato che a 7,93 c'è anche la media mobile a 100 per questa sera ho concluso auguro a tutti una buona serata e noi ci sentiamo domani dopo la chiusura del mercato diurno siccome nel weekend credo di essere stato piuttosto bravo se potete e se lo ritenete opportuno condividete questo e altri video per far crescere ulteriormente la community perché non vi nascondo che mi piacerebbe entro Natale anche se sarà molto difficile entro fine anno raggiungere almeno il traguardo che per le aspettative che avevo direi appena dignitoso però dei 4.000 iscritti al canale a domani a domani a domani a domani a domani Grazie.